Ciao a tutti, per rimuovere una rete tra quelle salvate su Android ci basta andare su impostazioni, dopodiché premere su Wi-Fi, da qua selezionate impostazioni avanzate che è sotto tutte le reti Wi-Fi che potete trovare. Vedrete subito reti salvate, vi comparirà la lista di tutte le reti che avete salvato, vi basta tenere premuto qualche secondo su una rete e compariranno i soliti quadratini da spuntare per scegliere cosa vogliamo rimuovere, potete chiaramente spuntarli tutti in alto a destra, una volta che avete scelto semplicemente sotto premete su rimuovi, confermate e avete fatto. Ecco qua, se avete bisogno di altre guide vi basta lasciare sotto un commento. Ciao ciao!